Da una foto ad un'altra foto, questa sezione invece interamente fotografica, in questo caso, ci parla di luoghi. Terminiamoci davanti a questa fotografia, grande fotografia di Thomas Roo, che rappresenta un fantastico cielo stellato, quindi un tema che ben si addice al titolo che abbiamo scelto per questa rassegna. Un'immagine che fonde arte, scienza, tecnologia e poesia. L'artista ha infatti selezionato il frammento di una foto scattata da un potente telescopio stellare per offrirci uno sguardo completamente umano sull'infinità dell'universo. Sì, anche amo molto la fotografia innanzitutto, devo dire che è una delle sezioni che amo di più forse, è un media che mi è molto vicino e quindi sono felice di essere in questa stanza attorniata da tante fotografie che tra l'altro generalmente sono nella mia camera da letto e quindi sono davvero parte della mia vita e questo cielo per me è meraviglioso. L'ho in camera e prima di addormentarmi tutte le sere l'ultimo sguardo a questo cielo, a questa costellazione, a questo mondo di stelline che io amo molto. Sono davvero felice che sia qua in questa sala e che tutti i visitatori e le visitatrici potranno vederla e spero anche apprezzarle, amarla come la amo io.